Ciao, sono Stefano di Savini Vivai, sono qui nel nostro vivaio di Cotignola in provincia di Ravenna, siamo nella nostra serra dove abbiamo tutte le nostre piante di agrumi e oggi parliamo di un insetto, di due insetti che sono molto dannose le nostre piante agrumi e come eliminare questi insetti biologicamente dalle nostre piante. Sto parlando della cocciniglia e del ragno rosso, questi due insetti molto diversi tra di loro ma dannosi per la pianta possono essere scacciati con questi due prodotti biologici ovviamente dati insieme mescolati adesso mi spiegherò come. Allora parliamo dell'olio di soia e del sapone molle che sono praticamente due prodotti di uso comune ma in questo caso sono stati miscelati in maniera da essere poi spruzzati meglio e assorbiti meglio dalla pianta, mescolati insieme all'acqua nella dose giusta, andrei dandoli alla pianta infestata dagli insetti creeremo una patina protettiva dove l'insetto viene, si crea una pellicola dove viene asfissiato o cacciato dalla foglia. Quindi questo prodotto si dà ogni 10-15 giorni bagnando la pagina superiore e la pagina inferiore della foglia alla mattina o alla sera nelle dose di 20 grammi di olio di soia in 10 litri d'acqua e 40-80 grammi di sapone molle sempre in 10 litri d'acqua. Quindi qui all'interno di questa bottiglia dove abbiamo messo l'acqua abbiamo messo la dose miscelata di questi due prodotti che sono qui quindi 4 grammi e 20 grammi, carichiamo e andremo a bagnare bene regolando anche lo spruzzino e l'intensità, lavando bene la foglia. Andremo a lavare bene tutta la nostra pianta e andremo a creare questa difesa naturale per la nostra pianta. Con questo prodotto avete risolto il problema di questi due insetti che uno si manifesta la cocciniglia macchiando la foglia di nero e facendo questi insetti con la pancia bianca, con la schiena bianca. Mentre il ragno rosso sono dei piccoli puntini che vedete qui nelle foto, piccoli di un decimo di millimetro che stanno nella pagina inferiore della foglia e succhiano la linfa e creano questo giallume nelle foglie e non fanno crescere la pianta e la pianta destinata a bloccarsi e poi dopo morire. Quindi con questi prodotti avrete risolto i vostri problemi potendo assaggiare i frutti anche dopo il trattamento ovviamente lavandoli. Se volete trovare questi prodotti li abbiamo a disposizione nel nostro sito www.savinivai.it oppure nel nostro negozio di Cotignola. Se vi interessano per la visione potete cliccare nel link qui di sotto in descrizione e andrete direttamente alla pagina dei nostri prodotti. Per il momento è tutto un saluto da Stefano Savini da Cotignola da Savini Vai. Ciao alla prossima